ciao a tutti vorrei invitarvi per la piccola scuola del vedere oltre nel mese di luglio a Romena trattiamo questo tema guarda e allora lunedì 12 luglio inizia questa piccola scuola e questa volta la scuola è un po' più vicino perché conclude giovedì sera quattro giorni ma quattro giorni buoni allora a mattina presto troverete il podcast con contributo un compito un invito e poi alla sera un po' più tardi del solido alle ore 21 iniziamo e concludiamo alle ore 22 un po' più tardi perché l'estate è caldo eccetera così potete iscrivervi dalla settimana prima sul sito di Romena e quando siete iscritti ricevete poi sempre la domenica prima sempre alle 11 il link è importante vi iscrivete perché dopo vi arriva anche il link con tutto il materiale dropbox link eccetera con i testi registrazioni speciali eccetera quali non possiamo pubblicare su youtube così vi aspetto vi aspetto alla vostra iscrizione e poi iniziamo al 12 luglio il corso è gratuito ma come sapete anche voi in questo periodo in quest'anno apprezziamo un'offerta sentitevi libero noi siamo molto grati a qualsiasi generosità vi ringrazio e buona settimana a presto